Questa è una chicca che sanno in pochi, chi lo sappia. Esistono alcuni cristiani o ebrei convertiti o cristiani di origine ebraica che, lì dove non ci sono contraddizioni tra ebraismo e cristianesimo, mantengono le tradizioni ebraiche, anche l'avviamento e le feste. Nella chiesa cattolica ci sono gli ebrei cattolici e nel protestantesimo evangelico ci sono gli ebrei messianici, detti anche i giudei messianici. Gli ebrei cattolici sono tutti gli effetti cattolici romani che dipendono dal papa, che riconoscono il papa e tutto. Le cose possono essere facilmente confusi con ebrei a tutti gli effetti.